Ciao amichi! Sì Bra Allora, questa è la mia squadra per il momento Abbiamo Ciano Tu Ottimo Salto Uffa Salto Uffa Che praticamente è Avon Al-Akbar D'Lard E D'Ugonga D'Ugonga Sì, nel box ho messo Samsung perché Ecco, guarda lo schifo E' bellissimo il mini sprite nel Ah, giusto cosa Devo farti vedere una cosa Ho salvato lì Oh, wow, Regi Ice, catturalo Ah, perfetto Sì, perché vedevano le Master Ball Ah, eh Ehm Ehm Ah, e teniamolo così, poverino Lo mettiamo a posto di Gleily Che sicuramente registrerà di più Ok, adesso entriamo in Pokemon Market Non ha messo le pozioni perché è stronzo Ok Usciamo Dice, c'è ancora qualcosa che vuoi? No Ah Eh, cosa Poi fa così Poi fa così Io esco Mi dice, vuoi partecipare? Faccio Cancel E poi fa partecipare Con... cosa? Cosa diavolo? Ammira lo schifo Probabilmente crescerà Ma che cosa? Uno spettacolo d'arte moderna Agghiacciante Infatti è cresciato Yeah Andiamo Con lo spirito di Malna Il tuo Di Avon E di Daniel Fammi prendere Ah, c'è da prima Dov'è? Crettino È cresciato il gioco Porca vacca Malna con i capelli corti Ciao, io sono Cinder L'amico di Lex98 Che lo sta aiutando Con il progetto di Smeraldo 2 Sto scherzando No, che in realtà In realtà In realtà Sono il primo account Di Lex98 Che ha avuto Una pessima reputazione Con il progetto Pokémon Smeraldo K Il bello È che ho finito Di essere amico Di me stesso Ah Sì, non lo sapevi Tu sei amico Con te stesso Ehi, me stesso Sei mio amico No Fai bene Non ho capito Questi Pokémon Ma va bene Anch'io Però c'hanno C'hanno il Pokémon OP della run E devo essere pure Craticato da Flygon Solo perché È un map designer Sono stato pure Quattro ore Perfezionarla E ho acceso Il GBA Settanta volte Io sono Un principiante È ovvio che Non sono bravo A fare una bella hack Perché la barretta? Ah, perché Ho una hack Oppure Dei fare una ROM Ci vuole Come non scordarsi I messaggi sclero In quel topic Comunque non capisco Perché l'ex 98 Ho 17 anni Ma nel mio profilo Ne abbia messi di giù Teniamo sempre Ciano Anzi Diamo un attimo di gloria Flavio Grazie Prego Salve Sono Arianna Ma nei forum A cui non mi sono mai iscritta Mi chiamo Mi chiamano Mi chiamano Ari No, mi dispiace per tutti i morti di Ficla Ma sono sempre l'ex 98 Questa è la prova di quanto io sia Disorientato sessualmente Ok Boom Flavio sei inutile Succa L'ipercannonato Hai capito perché Scritti con maledizione Nido qui Vai ti mandiamo Su Boom Vai Metti una donna Un qualcosa No Non ho cose per curare gli stati Non hai capito No Ok perfetto Ripa E morire ti picchio Ho fatto la coscienza Dell'ex 98 Mettendo che ha esagerato E inoltre ha sempre spiegato I suoi errori Ok Cioè praticamente L'ex si divide in Toto individui E ognuno rappresenta Un suo pregio Barra difetto Guarda Hai appena saltato la crusca Che si è infrata Cosa ho scritto Non lo lascia perdere Allora andiamo avanti a pozioni No ti giuro No no Altro Basta Due pozioni Un Revitalizzante max E una pozione max Fine Norman Norman Salve Io sono un amico Di l'ex 98 Che lo aiuterai Insieme a Cinder Con la sua Pokémon Smeraldo 2 Nah Non avrai capito Che sono sempre l'ex 98 Non è un trasformista Esatto Vedi È diventata Frida Normal Però è Frida E torna Condor Eleven E il Condor Father E Cosa Grandine Busa Perché ha Grandine Beh Però è morto Dai mettiamo Dugonga Ma io volevo La Wack No fa schifo Lo usiamo come Ultima risorsa Perché Perché Non lo so Swaglow Swag 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 Ah Carpuno No Ok basta Che ho giocci L'ex 98 Mi ha creato Per motivi Che sarebbe Inutili dire All Ne voglio Saperli Eh Mi sa che sono gli amici L'ex 98 Ma scusa Se sei te stesso Dovresti saperlo Appunto Critee Critee Oh no Non pensi sia tempo Di utilizzare Saltouf Sedi questo qui Usa fuoco No ti prego Mi sono a far tagli Le telemezzius Chi Ti assicuro Che non sono Un Multi account Anche se Etc E Andrea Lo sospettano Comunque Mi sono a volte Più originale Bravo Direx 98 Nel hacking Tranne che Nel mapping Li faccio Veramente schifo Ah Porco Ammira La malvagità Aia E invece Vai tu Ah 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 Di mandare Dugong Davvero a protect Vai Protect Eh Ah ok Eh Rocciotomba Rocciotomba Io ci provo Sì Vai Ma non ci credo Ma che palle Vai salto uffa Aia Eh Comerda Vai Ma porco schifo Ce la possiamo fare No Affatto Eh C'è uno e smog Vai 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 tantissimo Ma che smog Adesso ti prendi di nuovo No Come fai Co Co Come Vai Flavio Vai Sì No Eee Che ci abbiamo fatto Ah Né quello freedom Né la prova Eh Usa quello Emax revive Su porco Porco schifo Magari Su da Dugong Ciao Ciao Alp Sono io Dex No Ah Sì Devo vedere per me Quest'hack È una presa in giro Bella e buona Preparati sicura Funestamente Però sono un Pikachu Adesso sono Rocco E ora sono ancora Rocco Ecco No ma il presente è Bill Che diventa Clefairy Ecco Uè Come ho potuto perdere Sig 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 Guarda che sono stato Unilato da quest'hack Adesso pure tu l'hai fatto Oh brucia Oh arriva Red Prepario Renus Aspetta Prepario Renus L'abbiamo detto Qua sul canale Parecchie volte Quindi Il mistero Si Che cosa Hai fatto tu L'ex Che cosa Sembra che 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 Un POKEDEX Stronzate a parte Complimenti Esatto Chi mai Che Che Sì Mi dispiace Ma sta Scivolando Non vado a Rüpurc Nationa adesso che questa grandissima stronzata è finita metti i tuoi pokemon in questa macchina li registrerai insieme ai tuoi dati capito siamo noi i vincitori io sono il vincitore io hai vinto grazie a si hai speso 10 ore in questa porcata velocizzate non mi interessa sono sempre 10 ore sulla carta sei zitto guardalo che mergo vabbè tra tutte le stronzate io non ho capito una cosa gli starter ho capito che ce l'hai su con questo povero ragazzo ma perchè i telefoni e perchè in base alla scelta ti identificano come un tipo di persona no? se prendi un iphone sei una splendazione di merda ad esempio secondo lui quindi se prendo un nokia sono un menomato mentale se prendo un samsung sono una persona normale si e finalmente faccio real day night system e non me ne ero accorto wow pat tu sei che sei un bravo recensore di akron lo so però iate a parte che dire infine di quest hack allora chiunque abbia fatto quest hack sicuramente ci segue ok? si quello l'ho notato messaggio per quello che ha fatto quest hack mi scrive in privato che devo congratularmi con lui prometto che non dirò a nessuno prometto c'è qua il video te lo prendi prometto che non dirò a nessuno chi tu ci in realtà te lo prometto però voglio conoscerti io voglio conoscerti mi invio un messaggio privato o qui sul canale o sulla pagina facebook ti giuro che non lo dico a nessuno però voglio stringerti la mano anche virtualmente però voglio stringerti la mano dai io invece no me ne frega un cazzo tu chi sei? cioè per me puoi esistere come puoi non esistere puoi anche essere un frutto della mia immaginazione beh io direi forse sia il caso di chiuderla qui con queste porcate aspetta mano muoviti eeeh ciao 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 ciao